Buongiorno, sono Stefania Piloni, ginecologa, omeopata e fitoterapeuta. Grazie per avermi invitato oggi al Festival delle Erbe di Minoprio. Oggi parlerò alle donne, ma non solo alle donne, alle persone che vogliono ascoltare di fitoterapia e di omeopatia al femminile, per cui di piante medicinali che possono essere di aiuto alla vita delle donne. Molto spesso le donne si trovano davanti alla scelta di iniziare una terapia ormonale, oppure di dover prendere estrogeni, progesterone, testosterone, DEA, tutti ormoni di sintesi che possono essere di sicuro appoggio alla vita del femminile in momenti di crisi, come possono essere mestruazioni molto irregolari, piuttosto che sindrome premenopausale, menopausa, oppure sindrome premestruale. Spesso però le risposte sono di tipo univoco. Oggi invece siamo qui per offrire una risposta anche alle donne che preferiscono non utilizzare terapie ormonali, per cui ci sono delle altre strade che possono essere utilizzate. Ad esempio degli estrogeni non di sintesi, degli estrogeni vegetali, i cosiddetti fitoestrogeni, che vengono dal trifoglio rosso, dalla soia, dalla salvia, dal luppolo, dall'eleutero cocco, che è anche una pianta di tono, piuttosto che invece dei progestinici, i fitoprogestinici, la dioscoria villosa, la damiana, l'agnocasto, per cui delle piante che possono essere al servizio del femminile per cercare di non fare terapie ormonali prolungate, o terapie ormonali che possono comunque avere degli effetti collaterali. Ad esempio le terapie per la menopausa sono un po' sotto accusa da questo punto di vista per quanto riguarda alcuni dei tumori estrogenodipendenti, ad esempio il tumore alla mammella. Per cui il mio punto di vista è essere a fianco delle donne. Non prediligo nessuna terapia in particolare se non dopo averla profondamente discussa con la donna che ho di fronte e sono una guida, credo, per aiutarla a comprendere qual è la terapia di cui ho bisogno. Potrebbe essere una terapia ormonale classica, potrebbe essere una terapia omiopatica, potrebbe essere una terapia invece fitoterapica, ossia a base di piante medicinali. L'importante è che la donna con il suo senso critico e con l'appoggio di quello che può fare e a volte non può fare sia accompagnata dal medico in questo che non deve essere mai un fai da tema, deve essere una scelta ben ragionata anche perché le terapie ormonali spesso vengono proseguite per molto tempo. Si tratta di storia della medicina direi, per cui delle piante alleate delle donne, che le donne hanno sempre utilizzato per essere a posto, per sentirsi bene, per avere una sessualità bella, desiderata, per avere una vita frizzante, potremmo dire. Un aiuto in più è quello degli ormoni bioidentici che vengono dalla placenta, per cui gli estratti placentari che possono essere utilizzati da una fonte naturale, che è la fonte gravidica, per cui un rimedio che viene dalla maternità, dalla gravidanza, che poi in crema, l'estratto placentare può essere usato in menopausa e questi sono gli estrogeni bioidentici. Un'altra fonte naturale, questa volta non è vegetale, è una fonte che viene dalla maternità, per cui tante soluzioni a fianco delle donne. Grazie.